Ciao a tutti, sono Enrico di CPL Fabbrica. Oggi insieme a Sandro cercheremo di darvi qualche spunto andando ad esplorare il modo in cui artisti, stampatori, serigrafi si sono promossi e hanno mostrato i loro lavori online. Quindi abbiamo preparato una serie di esempi, di siti intent principalmente, e andremo a cercare di decodificarli e raccontarli. Ciao Sandro e benvenuti. Ciao Enrico, grazie. Sì, in realtà vedere quello che fanno gli altri è sempre utile dal punto di vista anche dell'ispirazione e del cercare di non copiare ma capire perché sono state fatte determinate scelte e ci si è comportati in un determinato modo. La differenza grossa che vorrei fare inizialmente è tra chi produce manufatti, articoli o altro dove la creatività arriva dal cliente e invece chi produce manufatti, articoli o opere d'arte anche in questo caso dove la creatività invece arriva dal creatore. Per cui da una parte abbiamo la necessità di far conoscere i nostri prodotti da una parte e far vedere cosa il cliente può ottenere grazie alla nostra professionalità e grazie al nostro lavoro. E anche ovviamente rendere più semplice possibile l'esperienza del cliente per ordinare il lavoro che vuole. Dall'altra parte invece avremo una pletora di opportunità maggiore perché appunto possiamo decidere noi qual è il nostro grado di coinvolgimento pratico nella realizzazione del manufatto perché potremmo decidere di realizzare solo la grafica di inventarci solo grafiche o scritte o altro per poi far realizzare ad altri fisicamente l'opera oppure potremmo decidere di realizzare tutto noi e quindi dovremmo avere solo una vetrina per cercare di promuovere quello che abbiamo fatto. Per cui partirei da queste due grosse categorie. Certo. E abbiamo parlato varie volte di piattaforme, di marketplace o chiamiamole come vogliamo che danno la possibilità di mostrare e vendere direttamente i propri prodotti. Oggi vorrei concentrarmi sostanzialmente su due tipologie. La prima è Etsy che è un marketplace pensato per gli artigiani e il secondo è Society6 che invece è un marketplace pensato più per i creativi ma ora ci arrivo con calma. Allora partiamo da Etsy. Etsy è un sito, un servizio dove noi possiamo registrarci e ovviamente comprare ma ovviamente anche vendere i nostri prodotti. Per cui possiamo... In questo caso ad esempio io ho aperto già una scheda di un prodotto realizzato da Premium Soft Threads che è una personalizzazione di una t-shirt. Vediamo che è un prodotto quindi immaginiamo che sia un e-commerce dal punto di vista dell'interfaccia utente è sostanzialmente un e-commerce. Sì. Ma cosa abbiamo la possibilità di fare? Intanto non è il sito che sta vendendo ma è un artigiano è un creator non è Etsy che vende ma è questo profilo che sta vendendo che ha realizzato con questo prodotto 105.861 vendite. Ho capito. E qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che il prodotto base è una t-shirt ma abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di t-shirt ad esempio unisex taglia M e il colore. Scegliamo un colore qualsiasi, nevi. Poi qua ci chiede che cosa vogliamo scrivere nella t-shirt perché il focus di questo prodotto l'obiettivo di questo prodotto è vendere t-shirt personalizzate da scritte per cui qui ci dà la possibilità di scrivere il testo che vogliamo ovviamente incrociando con le informazioni delle immagini che ci indicano la tipologia di font che sono disponibili per questo prodotto per questa personalizzazione qui abbiamo la scelta delle taglie o quantomeno le indicazioni su come scegliere la taglia corretta sono le tipologie di prodotto e immaginiamoci di essere anche noi un serigrafo che realizza t-shirt personalizzate all'interno della sua attività oltre che magari lavorare per aziende o per società sportive realizzare anche semplicissime t-shirt personalizzate per eventi per occasioni particolari o anche solo per gioco potremmo avere il nostro prodotto già personalizzabile in questa fase quindi senza dover fare mille contatti col cliente che ci dice no lo voglio così lo voglio cos'ha ma metteteci questo ma scrivici quest'altro diciamo che è già un modo per entrare in comunicazione con il cliente finale e ottenendo già un ordine sostanzialmente corretto al primo tentativo subito alla partenza ma quindi la cosa che è interessante è che su Etsy non si arriva col prodotto finito col prodotto per cui si può differenziare solo tra taglie magari ma proprio si possono si possono proporre delle personalizzazioni si si possono inserire anche delle richieste di un campo personalizzato dove si chiede una un qualsiasi cosa da parte del cliente quindi a descrizione del cliente quindi assolutamente possiamo anche ovviamente con un certo grado di artigianalità anche in questo caso perché non è un configuratore specifico per la personalizzazione di magliette ma è un prodotto con un campo personalizzato dove possiamo inserire quello che vogliamo in questo caso l'autore il produttore ci dice ok in questo spazio di testo inseriscimi che cosa vuoi scritto e con quale stile rispetto a quella tabella proposte tabella in cui quello proposto certo e qui è assolutamente interessante è molto e poi immagino che il produttore invierà una bozza successivamente al cliente per dire guarda la tua scritta verrà così ok daccelo ok si stampi dai diamo il via alla stampa quindi questo è molto interessante perché anche un sito dove apparentemente si possono vendere solamente prodotti finiti in realtà se configurato in un certo modo può diventare un sito dove si può vendere la propria un servizio un servizio di stampa sì assolutamente poi ovviamente invece c'è un'altra casistica ad esempio in cui immaginiamo di avere già un prodotto personalizzato dato quindi un soggetto ecco più che un prodotto personalizzato già un ti faccio vedere l'esempio su questo questa azienda produce skin per mac portatili e i design sono vari sono tantissimi i design possibili ma quindi al netto del design che uno sceglie precedentemente dice io voglio questo voglio quest'altro ecco ad esempio scendo così se ne vedono parecchi certo al netto del design che è la prima condizione di scelta per cui sono n prodotti con diversi design io posso scegliere per quale dispositivo sì e che tipo di adesivo voglio se voglio solo quello della parte superiore se voglio solo quello della parte inferiore l'intorno tastiera oppure tutto certo varie combinazioni di questo ad esempio questi sono i vari esempi di dove vanno i vari adesivi certo questo è l'intorno tastiera questo è sopra questo è sotto e qua dice dove andare a recuperare il codice del modello per ordinare il prodotto corretto infatti qui il campo personalizzato è utilizzato per richiedere il codice del prodotto certo la cosa interessante è che poi siccome Etsy ha una comunque i grandi marketplace hanno una visibilità che supera i confini cioè è trasversale si può è internazionale come proprio come impostazione alla radice non hanno non sono verticali sui paesi si può si ha potenzialmente un pubblico enorme questo creatore questo produttore è in Ucraina ecco appunto e spedisce in tutta Europa penso anche in tutto il mondo ma è in Ucraina basato in Ucraina quindi sì non c'è verticalità sul paese sul paese questo è il grosso vantaggio di affidarsi a un marketplace rispetto a costruire il proprio sito loro in questi spazi hanno la possibilità di raccontarsi in qualche modo secondo te qualcuno sceglie di raccontare la storia clicchiamo sul nome del produttore e andiamo a vederlo sì ha la sua pagina di descrizione come in qualsiasi e-commerce col brand di categoria certo infatti c'è la persona proprietaria del negozio perché comunque qua su Etsy ci sono aziende ma sono sempre legate a un profilo personale comunque quindi proprietaria del negozio è questa lesia ci dice come si chiama il negozio il numero di vendite totali che ha effettuato il suo rating quando si è scritto a Etsy e i clienti sono entusiasti questo negozio ho ricevuto molte recensioni a 5 stelle negli ultimi sette giorni e questi sono i suoi prodotti quindi a questo punto abbiamo filtrato i prodotti solo di questo negozio solo di questo cliente secondo te abbiamo le categorie di prodotto qui ecco proprio di questo volevo parlarti secondo te se uno ha un profilo su Etsy o su un grande marketplace ha senso differenziare molto i prodotti oppure bisogna avere una sua coerenza in questo senso chi è chi stampa io appunto ne conosciamo i nostri clienti e sappiamo che da un laboratorio di stampa possono uscire tantissimi tipi di prodotti appunto dalle cover e dalle personalizzate alle stampa su magliette a stampa agli shopper e alla personalizzazione di qualunque del legno a tantissimi altri ambienti ecco in un marketplace è preferibile dire dedico questo questo spazio a una linea di prodotto specifico per cui io poi per questo pubblico sarò famoso per quella persona che personalizza le cover dei computer oppure dico io voglio mostrare tutto ciò che faccio e poi ognuno capirà selezionerà le categorie sceglierà ma io voglio mostrare tutte le tutte le possibilità che ci sono rivolgendosi a me cioè quali do le due strade sono scelte di marketing a mio avviso nel senso se abbiamo un prodotto forte e per forte intendo che abbia una forte domanda online e comunque un forte appeal online allora vale la pena focalizzarsi su quel prodotto mettiamo in questo caso magari il laboratorio dove lavora questa ragazza o che ha costruito questa ragazza realizza adesivi di ogni tipo probabilmente realizza solo adesivi per cover per mac ma online e soprattutto su Etsy in questo caso è un articolo molto gettonato molto richiesto quello delle cover per mettere in sicurezza anche il proprio mac dai graffi dagli urti accidentali eccetera oltre che renderlo più personale e quindi si è focalizzata su sulle skin sulle adesivi sulle skin per i macbook quindi per i portatili dell'apple ma appunto dipende un po' da qual è la nostra impostazione mettiamo di avere un laboratorio estremamente generico potrebbe anche essere utile avere più prodotti diversi che personalizziamo magari avremo 5 prodotti invece che 300 come in questo caso avremo 5 prodotti ma estremamente personalizzabili quindi magari avremo la tazza il la t-shirt il il pannello in legno o il mouse pad per capirci e di questi 5 prodotti all'interno di questi 5 prodotti il cliente può scegliere vari layout varie scritte varie varie personalizzazioni questo potrebbe essere una strada comunque certo secondo te quindi arrivare con una gamma molto ampia di prodotti anche questa è una scelta di marketing arrivare con una lista entri nel negozio uno ha una lista di 200 prodotti oppure in altri negozi si entra e si ha una lista di 5 prodotti ma siccome sono molto personalizzabili di fatto sono infiniti e questo è un punto di vista dell'impatto bisogna vedere per esempio io per esperienza noi abbiamo capito che nel nostro e-commerce personale una gamma restretta di prodotto blocca un po' all'acquisto perché manca quella componente diciamo di fiducia rispetto al venditore per cui si dice vabbè questo ha solamente 5 prodotti non è un grande venditore non è una venditore a cui posso affidarmi se uno ha una lista di qualche migliaio di prodotti è un'azienda strutturata è un venditore strutturata a cui potersi affidare cioè questa è una appunto la percezione che non ha nulla di tecnico o di strategico è proprio aver capito con l'esperienza quali sono alcune dinamiche e nel caso di andare su marketplace ti faccio questa domanda perché molte persone che hanno un loro sito personale cioè un loro sito aziendale un loro sito di e-commerce possono utilizzare il marketplace per un prodotto pilota chiamiamolo per un prodotto esca che serve per poi attrarre persone verso il proprio sito personale perché su questi marketplace quando sei listato e acquisisci un minimo di feedback un rating medio alto è facile è difficile ma se arriva a compagire tra le prime posizioni nelle nicchie è un pochettino più facile se poi si va a cercare una nicchia per esempio le cover per i Mac possono essere a loro modo una nicchia e quindi un'azienda arriva in cima ai risultati e arriva ad essere vista da persone che non vedrebbero che vedrebbero molto difficilmente il sito non dico che non lo vedrebbero mai ma molto difficilmente da quel momento però quella persona che diventa cliente o può anche essere semplicemente interessata a quei prodotti andrà ad esplorare il sito non è così scontato purtroppo che si faccia questo salto sì perché spesso così come su Amazon il cliente è il cliente del marketplace non è il tuo cliente cioè il fare il salto è complesso vedo molto più semplice far fare il salto dopo il primo ordine perché magari all'interno del pacco io inserirò tutta una serie di di ulteriori modalità per entrare in contatto con me magari anche un campione di altri prodotti cioè una mia presentazione fisica all'interno del primo ordine che invio in modo da creare più rapporto col cliente perché diversamente se il cliente diceva solo ed esclusivamente quello che ha comprato da me non è così facile che si possa passare da questo al sito direttamente del produttore sì perché appunto è molto importante ciò che tu dici che il cliente è cliente del marketplace non del produttore se noi acquistiamo un prodotto ci capita non un prodotto necessariamente appartente alla creatività ma acquistiamo un nuovo monitor per un computer poi dobbiamo acquistare un secondo spesso torniamo nella nostra lista ordini o ripetiamo l'acquisto o se sono passati sei mesi un anno questo prodotto non è più disponibile ci verrà suggerito un prodotto analogo di tutta altra azienda ma noi siamo clienti del marketplace in quel momento esatto noi andiamo ad acquistare sul marketplace il legame che abbiamo col produttore è molto debole bisogna crearlo nella pratica il prodotto deve lavorare moltissimo per creare questo legame e il lavoro grosso da fare ripeto su me è fisico non è tanto digitale ma è fisico cioè è fare un effetto wow un effetto sorpresa e dare di più di quello che ci hanno chiesto al primo ordine in modo da portarli comunque a interessarsi a noi come produttori sì non è assolutamente scontato il legame tra il marketplace e il produttore anzi il lavoro da fare del prodotto a parte del produttore è molto articolato e deve essere comunque una priorità se decidiamo di vendere all'interno di un marketplace certo quindi è tutto un lavoro di post vendita che non è assistenza diciamo sui guasti o sulle sulle rispedizione ma o sulla restituzione degli articoli ma è proprio un post vendita di marketing attivo che consente di cercare di portare fuori se si vuole perché poi magari una ha voglia di continuare a vendere sul suo marketplace e ha tutto il suo mondo è lì e non ha un sito personale o aziendale il suo mondo si risolve nel marketplace e questo secondo me soprattutto per chi fa personalizzazioni potrebbe va bene è una cosa che può funzionare perché il prodotto è meno intercambiabile se uno acquista uno schermo di un computer e poi l'acquisto successivo può farlo a tutt'altro venditore allora non sposta niente le variabili sono la marca dello schermo e il prezzo e come viene gestita la garanzia eventualmente esatto ma se invece si parla di prodotti personalizzabili personalizzati ecco che allora il legame col venditore è un pochettino più semplice perché solo quel venditore li personalizza in quel modo o ha una linea di prodotti interessanti riguardo un certo mondo un certo tipo di lavorazione per dire la stampa ha spessore fatta in un certo modo oltre alla grafica spesso ci focalizziamo tanto sul tipo di grafica sul tipo di creatività in realtà c'è tutta una parte tecnica del processo di stampa che anche quella è una delle componenti di personalizzazione per cui ci saranno ci sono sicuramente dei venditori che fanno una stampa puff una stampa a spessore una stampa con determinati effetti magari molto americani molto e questo è chiaro che ha una linea a cui noi poi facciamo riferimento gli appassionati di questo genere di personalizzazione faranno riferimento a quel venditore a quel produttore quel creativo perché ha quella linea sì sì assolutamente però bisogna riuscire a costruirsi la propria riconoscibilità esattamente sì 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 altrimenti sui market se veniamo listati come si dice cioè veniamo messi nell'elenco per ragioni di prezzo principalmente di prezzo e di rispondenza con la chiave anche io per esempio ho fatto una ricerca per t-shirt come vedi c'è il il prodotto personalizzato che abbiamo visto prima quindi quello dove io posso scegliere io cliente posso scegliere cosa scrivere su una maglietta e oltre al tipo di maglietta e al colore oppure andiamo all'altro capo dove io ho già il design e il colore della maglietta posso solo scegliere la taglia per capirci quindi passiamo da un estremo all'altro all'interno della stessa ricerca quindi riuscire a differenziarsi già a questo livello è importante certo poi tu hai fatto ricerche su altri siti mi hai detto su altri portali allora sì un altro sito che mi sento di consigliare però in questo caso allora mentre Etsy è perfetto anche per tutti gli artigiani cioè quindi che realizzano il prodotto in tutta la parte in tutta la filiera per cui consegnano il prodotto finito dopo averlo realizzato è perfetto Etsy invece se abbiamo delle belle idee soprattutto dal punto di vista grafico e poi vogliamo declinarle in qualsiasi gadget ci venga in mente ad esempio ci sono siti come Society6 che cosa permette di fare Society6 permette di partire da un unico design e declinarlo in mille tipologie di prodotti diversi quindi a partire da le carte da parati a finire con le t-shirt o i cuscini per capirci è esattamente l'altro approccio rispetto a quello di Etsy su Etsy io promuovo e inserisco prodotti che io realizzo da zero o comunque quasi da zero invece su Society6 io creare le grafiche e poi le declino nei prodotti nella quantità nei generi di prodotti che io io creator scelgo posso scegliere che la mia grafica sia venduta sui cuscini sulle tazze ma non sulla carta da parati ad esempio quindi posso creare le mie linee di prodotto a partire solo dal dal design certo da un punto di vista poi pratico in questo caso diciamo la produzione la stampa avviene da parte di Society6 esatto o dei suoi fornitori esattamente il creator fornisce la grafica fornerà dei file vettoriali con la grafica ma tutta la produzione avviene da parte del portale esatto vedi ad esempio questo design che io ho scelto in maglietta sì quindi altre magliette dello stesso autore ma è declinato nella cover per iPhone nell'orologio nella stampa da parete nel telo doccia nelle piastrelle il cuscino ed è lo stesso design nel copriletto cioè io decido negli sticker banalissimi sticker io creator che ho immaginato la mia grafica decido su quali prodotti può essere applicata e venduta quindi io qua non ho nessun tipo di intervento nella realizzazione del prodotto ma posso avere un catalogo infinito di prodotti basati sulle mie creazioni certo e penso che il creator in questo caso diceva una royalty sì una royalty sulla vita in quanto lui non si deve più occupare né di produrre il prodotto né di spedire ovviamente ha un tetto minimo e poi può impostare un prezzo che decide su ogni singolo prodotto ovviamente non si può scendere sotto al prezzo di produzione certo e più alza il prezzo e più guadagna ovviamente però rischia di andare fuori mercato rispetto agli altri prodotti presenti sul marketplace della stessa tipologia certo quindi bisogna fare un po' di attenzione nelle logiche di vendi di marketing e di pricing per non andare proprio fuori dalla scala questo è interessante perché ora è normale fare dei confronti dei paragoni dei benchmark con i propri concorrenti questo è banale da dire però ci sono casi in cui o non c'è concorrente o soprattutto in alcuni dei lavori creativi per cui se si producono determinate creatività oppure si è lavorato moltissimo sul proprio marchio il concorrente potrebbe anche e questo lo diciamo per esperienza essere anche più sano non fare grossi paragoni non dedicare troppo tempo a paragonarsi sulla base del prezzo con i concorrenti ma dedicare lo stesso tempo invece a lavorare sul marchio lavorare su una migliore creatività e poi restare in un certo ambito però è evidente che non vieni scelto o non scelto se la tua maglia costa 31 euro anziché 29 non è quella la differenza o se il tuo concorrente la mette 33 euro e tu la stai mettendo poco di più non è questo perché tu hai lavorato di più sulla tua reputazione sulla tua storicità sul racconto del tuo marchio quindi volevo capire su questi marketplace se tutto questo ragionamento è abbastanza evidente quando tu hai lavori in casa tua cioè quindi con il tuo sito sui marketplace è molto più facile andare a fare un immediato confronto con il concorrente certo perché quando tu apri una lista per categorie in questa lista per categorie hai il tuo concorrente proprio il riquadro superiore il riquadro sotto di te esattamente e quindi lo vedi immediatamente se tu stai vendendo una creatività a 35 euro il tuo concorrente a 33 ecco cosa ti deve fermare dal dire vado nel mio pannello di controllo e abbasso anch'io e porto a 33 cosa purtroppo devo dire che in marketplace di questo tipo l'omologazione del prezzo è quasi obbligatoria e l'adesione alle policy di sconto e di promozioni che il marketplace fa come anche su Amazon ad esempio o su Udemy per i corsi perché appunto il tuo concorrente è tutto il sito non è solo il tuo concorrente diretto vicino di casa ma hai tutto il sito come concorrente perché concorre a rubare l'attenzione dal tuo prodotto per cui un'omologazione del prezzo permette di non concentrarsi sul prezzo ma solo su cosa piace ovviamente un prodotto che costa 50 euro uno che ne costa 20 hanno una differenza non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista della possibilità di acquisto perché ovviamente la capacità di acquisto delle persone è da considerare visto che non ci sono variabili a livello di tipologia di produzione del prodotto perché il mio prodotto la mia creatività e quella del mio concorrente saranno prodotte allo stesso identico modo quindi il costo di produzione è fisso per entrambi può essere una buona strada quella di affidarci alla alla stima che il marketplace fa di quanto dovrebbe costare il nostro prodotto e concentrarci sul realizzare immagini migliori creatività più interessanti e risultare più appetibili dal punto di vista estetico purtroppo perché qua solo l'estetica permette di vendere certo tenendo conto di una cosa però vanno bene le stime che fanno i marketplace ma noi dobbiamo anche dire un po' quali sono i ragionamenti che stanno dietro le stime dei marketplace al marketplace non interessa il margine interessa la quantità per cui il marketplace tenderà sempre a sottostimare leggermente sottovalutare leggermente il prodotto perché a lui è suo interesse siccome poi è un fatto di transazioni dove è molto scalabile per cui al marketplace si interessa vendere più prodotti a 15 euro piuttosto che meno prodotti a 30 euro perché se il suo faccio esempio 3 euro di margine sui 15 euro sono preferibili ai 5-6 euro di margine sui 30 euro perché la quantità di vendita sui 15 euro tenendo il tal prodotto a 15 euro sarà sicuramente superiore quindi a lui interessa la gestione di tanto flusso più che la marginalità però una cosa importante che secondo me si sottovaluta che i grossi marketplace cercano comunque di tenere il più possibile agganciati a loro i creator migliori quindi è più facile che abbassino la marginalità a loro vantaggio quindi che viene a loro a favore di quella del creator spesso piuttosto che diminuire le marginalità del creator cioè di di chi realizza le grafiche perché la loro forza è la possibilità di avere tantissimi design belli sul loro sito perché più design belli ci sono più è facile che si vendano per cui è un gioco un po' di equilibri tra il ricavo che fa il marketplace e quello che invece viene in tasca al creatore delle grafiche ora noi abbiamo fatto oggi due esempi appunto Etsy e Society6 è vero cioè l'impressione è che con il marketplace funzioni che il più grosso prende tutto cioè è solo molto aggregano moltissimo per cui dal punto di vista del creator è abbastanza inutile andare a dedicare tempo al marketplace di Micchia o al marketplace neonato al tentativo ma ci sono dei grossi mercati e tanto vale andare ad essere listati di dentro sì quindi dal punto di vista del marketplace la sua difficoltà è arrivare per passaparola per passaparola globale ecco per reputazione per posizionamento del proprio marchio ad essere considerato il marketplace del riferimento succede un po' con il social network certo dal punto di vista con il social network dieci anni fa si apriva un account su tanti tanti social network perché si decideva si pensava che andare a prendere la nicchia andare a prendere c'era fosse importante invece ora poi uno si rende conto anche per economia del tempo per gestione dei canali e che con uno o due account aperti su facebook e instagram si sta in piedi e si ha un bel riscontro e poi si può andare a vedere i video si caricano su youtube come abbiamo visto in altre lezioni in altri corsi ci sono delle appunto il più grande prende tutto dal punto di vista del creator appunto conviene andare su un proprio marketplace di riferimento e lavorare con quello quello più adatto alla propria tipologia di servizio appunto tra l'altro per grossi per macro aree appunto in alcuni casi sarà meglio puntare su un marketplace tipo Etsy che permette di vendere prodotti finiti in altri casi potrà essere meglio andare a cercare il reader il sito di riferimento per invece vendere ad esempio come Sitesix tutti i generi di prodotti che ci vengono in mente basati sulle nostre idee un altro esempio che volevo citarti che è molto verticale ovviamente mentre te ne ho citato due generalisti uno estremamente verticale sulle t-shirt che si chiama T-Public che permette di fare sostanzialmente la stessa cosa rispetto a Society's X ovvero creare un prodotto a partire da una propria grafica ma qui è verticale sostanzialmente su abbigliamento tendenzialmente t-shirt e anche altre tipologie di abbigliamento come in questo caso ora le mascherine che sono un prodotto molto ricercato sono a felpe canottiere ma verticale sull'abbigliamento quindi dove noi carichiamo i nostri i nostri design abbiamo il nostro negozio anche qui e una volta caricati i nostri design riceviamo una royalty sulle magliette che le persone scelgono di acquistare basate sulla nostra grafica anche in questo caso la maglietta non la stamperemo noi no esatto ma è delegata tutta la produzione è delegata al marketplace anche dal punto di vista tecnico i tecnici del marketplace scelgono la tecnologia di stampa più adatta al prodotto che al tipo di grafica che noi proponiamo quindi tendenzialmente ormai è stampa digitale diretta ma in alcuni casi è ugualmente serigrafia quasi mai termosaldabile ormai rispetto alla personalizzazione per cui o è stampa diretta o è serigrafia certo mentre anni fa andava molto di moda il termosaldabile ora con la stampa diretta che ha diciamo acquisito una stabilità di mercato un po' più importante ora le due tipologie di stampa ormai sono solo stampa diretta e serigrafia e serigrafia e anche perché sì in questo caso la stampa diretta ha un senso perché da un punto di vista del marketplace le produzioni sono numericamente enormi ma di un pezzo per quindi tu hai questa macchina che gira tutto il giorno quindi ammortizzi completamente i costi della macchina i costi di manutenzione e tutto quanto perché produce tutto il giorno su dei pezzi unici dei pezzi singoli dei pezzi singoli e quindi diciamo la criticità che si riscontra quando il creator compra la stampa diretta ora stiamo facendo una divagazione sulla stampa diretta però diciamo quando il creator compra la stampa diretta la criticità è che non riesce ad ammortizzare i costi spesso dell'acquisto e della manutenzione della macchina perché questa macchina non sta non è in movimento non è in produzione tutto il giorno mentre il marketplace ha un suo riscontro ha un significato per il marketplace tenere questo tipo di macchina ecco esattamente io c'è un fatto che il creator noi lo consideriamo sempre spesso come diciamo una piccolissima struttura come un qualcuno che lo fa quasi come secondo lavoro o che lo fa come attività cioè vuole provare oppure un gruppo di amici cioè una cosa non professionale questo faccio questa premessa per questo motivo quando invece in realtà come spesso succede il business aumenta per cui queste magliette queste personalizzazioni piacciono e quindi tu ti allarghi e da tu persona che avevi aperto il tuo account il tuo negozio avevi iniziato a vendere sul marketplace hai una struttura magari non grandissima però insomma ci sono 4-5 persone che dipendono da questo tipo di vendite assolutamente in quel momento in quel momento il problema qual è è che non hai un piano B se tu sei ti affidi completamente al marketplace per cui se cambiano tu sei un produttore in Ucraina per dire come abbiamo visto poco fa e per un qualunque ragione a qualunque ragione il marketplace americano non può più lavorare con produttori ucraini ora stiamo facendo una questione di geopolitica ne stiamo facendo però non può più coprire quel tipo di spedizioni quel tipo di pagamento di royalty perché ci sono sei dentro l'Unione Europea sei fuori dall'Unione Europea cioè ci sono delle regole che non dipendono da te in quel momento ma dipendono da una regola del marketplace che cambia da un momento all'altro e tu hai affidato non più solo la tua economia personale domestica che per quanto importante comunque tu un piano B potresti trovare ma una struttura hai affidato a questo tipo di venda per questo secondo me è molto importante avere il marketplace come una gamba del tavolo ma il tavolo deve avere altre tre gambe corretto queste altre che non vuol dire avere altri siti di e-commerce per forza per cui poi diventa complicato avere quindi il sito di e-commerce personale per cui diventa poi complicato la gestione veramente reale delle spedizioni degli ordinamenti dei prezzi delle scontistiche è un pochettino complicato ma significa per esempio che tutti i clienti del marketplace tu acquisisci in qualche modo l'indirizzo diventano tuoi contatti ti iniziano a seguire su Facebook su Instagram quindi diventano un tuo contatto e non diventano non restano quello che dicevamo prima un cliente del marketplace perché qualunque cosa succeda al mercato al marketplace al contenitore tu puoi portarti via i clienti e fare in modo che i clienti seguano te e non seguano il contenitore nulla vieta oltretutto in realtà una volta capito meglio il mercato una volta acquisiti i dati una volta strutturata un po' meglio la propria attività di differenziare la produzione ad esempio mantenendo il marketplace per i prodotti di punta e avendo un nostro e-commerce ad esempio anche quello per tutto il resto di personalizzazioni ad esempio possiamo anche decidere di sfruttare le cose per quelle che sono le loro caratteristiche migliori quindi togliere dal marketplace tutti i prodotti che non funzionano e vendere verticalizzarci su solo la tipologia per cui siamo diventati conosciuti e poi spostare quindi usare quella credibilità per poi creare un nostro store dove vendere una gamma maggiore o più personalizzata o tecnologie di stampa magari più all'avanguardia o più particolari quindi possiamo anche pensare a questo e l'altra cosa è che possiamo acquisire poi nel tempo anche una certa fama magari per il tipo di creatività che noi realizziamo infatti ti ho preparato anche alcuni esempi specifici di merchandising ad esempio che arriva da pagina da pagina facebook ad esempio per capirci questa è quella della bottega di fedelesimo libertà che è una pagina facebook di meme molto simpatici basati su autorizzazione medioevale di situazioni attuali e loro hanno creato il loro store per questo caso non su marketplace ma su un loro sito con i loro t-shirt e i loro prodotti perché questo già è un buon modo per monetizzare ad esempio la fama che una pagina facebook o un profilo instagram può ottenere per ad esempio proviamo ad aprire una t-shirt e vediamo un po' cosa ci chiede ok certo qui è un e-commerce ma è nato dalla dalla fama che la pagina ha acquisito quindi hanno iniziato a creare i loro i loro design originali e a vendere t-shirt basati su questi design ovviamente semplicemente un'indicazione delle taglie il come la t-shirt veste eccetera un altro esempio è quello di eccolo qua di un profilo che secondo me ogni creativo e ogni grafico dovrebbe seguire che è Andrea Antoni ha due profili Style One è il profilo su facebook ma soprattutto su instagram ha un profilo bellissimo che è cose brutte impaginate belle che realizza meme sostanzialmente anche qua basati un po' sull'ambito grafico del lavoro del creativo e ha la sua linea di t-shirt sì e anche lui in questo caso ti ho fatto due esempi di brand chiamiamoli brand ormai perché sono brand che realizza tutto dall'inizio alla fine quindi potrebbero essere potrebbero avere anche lo store su Etsy invece che averlo sul proprio sito in questo caso anche poche produzioni eccetera ha senso che lo abbiano su un loro sito ma altri hanno fatto ad esempio la scelta invece di appoggiarsi a un marketplace oppure una via di mezzo usando ad esempio Shopify ti faccio un altro esempio un artista americano che fa arte sul giorno dei morti classica tipologia messicana questo è il suo profilo instagram si chiama David Lusot e il suo sito nella parte nella parte di shop vendita è fatto in Shopify è basato ho capito ho capito sì quindi vende direttamente le sue le stampe delle sue delle sue opere le realizza lui quindi lui stampa in casa in casa in senso lato stampa nel suo laboratorio le 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 stampe eccetera poi le confeziona e le invia quindi tutta la filiera è controllata ti porto un altro ti porto altri esempi perché secondo me possono essere interessanti una ragazza che produce gioielli che si chiama Sara Sara Capoferri realizza gioielli in argento al traforo quindi per la maggior parte e anche qua parto dal profilo Instagram per per farti vedere cosa fa e poi ha il suo negozio a parte quindi in questi casi Instagram è anche proprio una sorta di vetrina dei dei prodotti non solo del non solo del della sua della propria vita professionale ma anche proprio uno showcase degli specifici prodotti e poi la vendita avviene sul sito personale sta mettendo un po' a caricare tramite quindi si viene linkato al sito personale e e quindi si entra nel mondo ecco Instagram cioè in questo caso funziona molto bene perché vedo un prodotto che mi piace vedo qualcosa che mi piace non è neanche ancora un prodotto vedo qualcosa che mi piace che mi che mi ispira e dico aspetta fammi vedere un po' meglio e poi da lì arrivo magari al alla alla vendita cioè arrivo direttamente all'acquisto del del prodotto perché mi piace molto bello quindi un altro esempio è di questo di questo artigiano che fa italiano che fa mappe in in 3D diciamo così di ogni genere e poi ovviamente vende sul sul proprio sito quindi sono mappe fatte con fresa controllo numerico o incise a laser la seconda poi incorniciate sì 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 e vendute sul proprio sito sul proprio sito ho capito qui vedo appunto le fotografie su Instagram sono molto più naturali quelle sul proprio sito sono invece come fossero di still life delle foto sì esattamente più regolari ok sì anche proprio lo stile è diverso perché su Instagram una foto prodotto in still life non funziona altrettanto bene per cui conviene che mentre qua io sto acquistando il prodotto quindi lo voglio vedere preciso non è più emozionale è la qualità con cui è fatta la cornice le varie caratteristiche del prodotto e tutto il resto avrà un altro tipo di di finalità anche l'immagine e un ultimo che ti voglio far vedere sono una coppia di creativi ragazzi pugliesi se ricordo bene che fanno ceramica ceramica fatta a mano e anche qua partono dal loro profilo Instagram per per incuriosire per 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 stupire anche un po' per colpire anche un po' perché comunque hanno design abbastanza originali e soprattutto anche abbastanza impattanti e poi hanno un un loro spazio all'interno di un altro marketplace che si chiama Deep Hop dove hanno i singoli prodotti in vendita certo poi ovviamente c'è anche il sito mi faccia piacere sempre insomma è molto interessante e e poi il prodotto perché è molto più diretto rispetto a Facebook la la relazione tra poste di Instagram e prodotti quindi secondo te su Instagram perché è un po' paradossale questo nel senso che su Facebook tu inserisci dei link si generano click direttamente al sito mentre su Instagram si vedono delle immagini si scorrono e poi si vanno sul profilo cliccare e accedere al sito internet eppure questo collegamento è più forte e soprattutto dura di più nel tempo rispetto ai link diretti che troviamo su Facebook sì perché è più naturale il processo perché è basato sempre sulla vista ed è basato sempre sull'apprezzamento di quello che sto vedendo mentre su Facebook è un po' più stridente in questo momento perché è più difficile catturare un solo un solo senso alla volta mentre su Instagram io vedo qualcosa che mi piace che mi ispira che divertente anche magari e poi se è un prodotto vado direttamente a cercarlo certo vado direttamente a cercare di capire dove lo posso prendere perché mi piace perché mi diverte permette per questo genere ovviamente per questo genere di prodotto quindi per un qualcosa che stimoli l'acquisto di impulso che abbia relativamente basso costo e facilità di accesso quindi una tazza una t-shirt un piatto un'opera d'arte è già più complesso perché comunque avrà costi differenti e avrà anche una scelta più ponderata perché dovrà essere abbinata magari alla stanza dove la voglio esporre vorrò saperne di più dell'artista vorrò cioè vorrò comunque ponderare meglio la mia valutazione in questo caso per un prodotto del costo di 25 euro vedo magari un piatto che mi piace e dico ok dove lo compro ah ok questo vado in descrizione prendo l'indirizzo del sito e mi vado a cercare sì il prodotto che è molto importante vado un attimo nel tecnico ma considerare tutto il web un grande ecosistema in cui ogni nostro spazio che gestiamo deve essere curato al meglio in questo senso da Instagram si andrà a cercare probabilmente su Google il nome del marchio o direttamente sul ormai per chi è abituato a usare Instagram in bio i link sono in descrizione se non si clicca sul link in bio molto probabilmente si andrà nel motore di ricerca si digiterà sotto varie forme il nome del marchio e dovrà uscire fuori noi dovremmo aver lavorato per mostrare il sito su cui realmente vendiamo i nostri prodotti o comunque esprimiamo la nostra creatività il sito da cui cerchiamo il contatto in modo che arrivi tra i primi risultati queste pagine ecco sì 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 però appunto sì il lavoro da fare è quello di creare quasi una propria media company così possiamo definirla sì perché tutto dovrebbe comunque rimandare a a dove le persone poi possono effettuare delle azioni delle azioni esatto di contatto di iscrizioni newsletter di acquisto di richieste di servizi ma quindi non può essere lasciato al caso perché altrimenti magari si va su google e appare una vecchia pagina di ebay che abbiamo aperto otto anni fa e che non è più curata il nostro vecchio negozio su ebay dove abbiamo messo tre cose però ebay è molto posizionato su google e arriverà prima questa pagina anche se non la curiamo più noi dobbiamo se un negozio lo dismettiamo togliere tutto togliere i prodotti togliere le informazioni e curare esclusivamente le cose che servono in quel momento perché i criteri di ricerca i percorsi seguiti dai clienti dagli utenti da noi sul web non sono mai lineari non sono mai sono casuali sono personali più che casuali sono personali derivano dall'abitudine personali e ognuno ha le proprie voi pensate faccio un'altra divagazione su come viene costruito un sito internet noi pensiamo che il sito internet si segue la critica di navigazione sia home page e poi pagine di prodotto mentre la maggior parte delle persone entrano direttamente sulla pagina del prodotto per cui non è che una certa cosa l'abbiamo già detta in home page oppure l'abbiamo già detta in un'altra pagina di categoria in un'altra pagina di un altro prodotto le persone entrano su quel prodotto e decidono in quel momento se contattarci acquistare se fare un'azione in quel prodotto non hanno letto quell'annuncio che era presente solo in home page perché non ci sono proprio mai passati in home page e questo è collegato al fatto che da Instagram non si conoscono i criteri per cui una persona ci vede su Instagram e arriva al nostro sito è per questo che va tutto molto curato e molto organizzato in modo coerente e soprattutto in modo semplice semplificando semplificando moltissimo semplificando gli spazi in cui andiamo a vendere riducendo al minimo tenendo solo quelli aggiornati tenendo solo quelli da cui realmente possiamo spedire e che funzionano e tutto questo fa parte del lavoro ecco dal lavoro organizzativo e di struttura sì e in più appunto c'è da considerare il fatto che in alcuni casi appoggiarsi a un marketplace può aiutare tutto questo processo perché ci permette di focalizzarci sul contenuto e non sulla parte tecnica ad esempio cioè non dobbiamo perdere tempo nel tenere in manutenzione l'e-commerce nel controllarlo nel verificare che non ci siano virus che non sia stato hackerato che ci permette di concentrarci sulla parte di contenutistica e di vendita di prodotto certo bene possiamo chiudere questa bella carellata di siti e di personaggi che abbiamo incontrato online oggi molto interessante io spero di farne poi altre perché puoi riuscire a vedere non per copiare come dicevo all'inizio non per copiare ma per prendere spunto per ispirarsi a quello che hanno che altri in altri settori non per forza nel nostro specifico settore merceologico hanno fatto è fondamentale perché io non mi sono focalizzato per forza sugli stampatori o sui serigrafi in come categoria sono andato a cercare artigiani perché poi è quello di cui stiamo parlando che avessero deciso di traslare la loro attività e la loro comunicazione dal negozio con la vetrina sulla strada al negozio della vetrina globale al negozio della vetrina online per cui l'interesse era molto più verso il contesto e verso il mondo degli artigiani e dei creativi a tutto tondo rispetto solo a quello degli stampatori certo sono sicuro che l'abbiamo affrontato e io penso che ci potrebbero scrivere e sarebbe bello proporre a chi ha seguito questo video fino in fondo questa nostra chiacchierata se ci scrivesse dei loro suggerimenti se ci segnalasse dei profili o delle dei link a negozi a profili su instagram a dei siti di e-commerce particolarmente interessanti perché potremmo andarle ad affrontare in futuro no? Sì potremmo anche analizzarli insieme in diretta sì? Bene grazie Sandro grazie mille Enrico e alla prossima ciao a tutti ciao ciao